Un nuovo capitolo nella storia dell'automobile verso l'impatto zero Dwin Air, una nuova famiglia di motori intelligenti con potenze da 65 a 105 cavalli anche in versione B-Fuel a metano da 80 cavalli con performance brillanti e consumi ed emissioni estremamente ridotti Dwin Air, progettato espressamente con il Multi Air, offre tutti i vantaggi di una invenzione rivoluzionaria che sfrutta le tecnologie di gestione elettronica per controllare la quantità di aria aspirata cilindro per cilindro e ciclo per ciclo Oggi la sua evoluzione, il sistema Multi Air 2, consente un ulteriore miglioramento in termini di efficienza e piacere di guida Il downsizing estremo da cui nasce Twin Air garantisce a pari prestazioni fino al 30% in meno di consumi e di emissioni di CO2 La versione a metano permette un'ulteriore riduzione assicurando al tempo stesso ottime prestazioni Il frazionamento a due cilindri consente sia di avere una cilindrata unitaria ottimale per massimizzare l'efficienza termodinamica sia una sostanziale riduzione degli attriti meccanici L'adozione di un contralbero di equilibratura e di un volano doppia massa assicurano il massimo comfort Sulle versioni turbo, il Twin Air fornisce prestazioni sorprendenti, superiori a motori aspirati di cilindrata decisamente maggiore L'integrazione del collettore di scarico nella testa cilindri riduce ulteriormente i consumi negli utilizzi orientati alle massime prestazioni L'adozione di tecnologie come start and stop, smart alternator, pompa olio a cilindrata variabile, termostato a controllo elettronico aumentano ulteriormente l'efficienza complessiva del Twin Air La potenza specifica che raggiunge i 120 cavalli litro è tra le più elevate della categoria così come l'erogazione di coppia ai bassi regimi Questo consente di ottenere un ottimo performance feeling in tutte le condizioni di utilizzo Un'auto con il motore Twin Air è divertente, agile, sportiva ed è già disponibile in versione Euro 6 Inoltre, il nuovo motore apre la strada a ulteriori sviluppi come l'accoppiamento a tecnologie ibride a cui ben si presta per caratteristiche e dimensioni Una sintesi di tecnologia e rispetto per l'ambiente che hanno consentito al Twin Air di vincere numerosi premi fra cui il prestigioso riconoscimento International Engine of the Year 2011 Twin Air Un risultato straordinario che premia l'innovazione, il coraggio e la visione del gruppo Fiat Un risultato straordinario che garantirà il gruppo Fiat Un risultato straordinario che funziona il gruppo Fiat Un risultato straordinario che funziona il gruppo Fiat Sparato Stratucco Un risultato straordinario che effetti